Esce il 2 e vado a Ligure e entra il 18 al secondo tempo dove vado a Ligure sta facendo 5 a 2. Vado a Ligure, vado a Ligure! Vado! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti.